Costeggiamo il lato più ad ovest del golf club di Sestriere. Raggiungeremo il rifugio Alpette, per poi proseguire per la ex diga del Chisonetto. Ecco il rifugio Alpette, a 2270 metri di quota. Da qui possiamo godere di una splendida vista sull'abitato di Sestriere e le montagne circostanti. Ed eccoci arrivati alla ex diga del Chisonetto. A 2175 metri di quota. Risaliamo la valle verso il passo San Giacomo, per vedere la diga da un'altra prospettiva. Torniamo verso la diga, per poi fare rientro a Sestriere. Grazie. 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 Grazie.